La lunga lista degli incidenti stradali si è recrita ieri sera. Intorno alle 21 in via Palmara, al viaggio Santo, un trentenne di origine marocchina ha perso il controllo del suo scooter ed è finito sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, pare che il ragazzo, mentre era in sella al suo scooter Honda, abbia perso il controllo in mezzo finendo per terra, ma solo dopo essere rotolato più volte sull'asfalto. Pare che il giovane abiti vicino al luogo dove si è verificato l'incidente e immediato l'arrivo dell'ambulanza al 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Universitario. Diverse le ferite riportate dal centauro nell'impatto, arrivato in ospedale è stato operato d'urgenza e neurochirurgia dove adesso si trova ricoverato. Sul posto, oltre agli agenti e la polizia municipale, anche i carabinieri della nucleo radiomobile. Da rilievi tecnici effettuati sono emerse tracce di scivolamento per circa 30 metri che conformerebbero quindi che si sia trattato di un incidente autonomo.